Ripulito in tempi rapidi il monumento dedicato a Roberto Benigni, che si trova a Manciano, una frazione del comune di Castiglione Fiorentino, e che durante la notte tra il 15 e il 16 di luglio era stato imbrattato da ignoti con della vernice rossa. La scoperta la mattina appunto del 16 di luglio, la vernice rossa aveva imbrattato il basamento e parte dell'opera che si trova al centro del Parco della Creatività di Manciano. Il comune di Castiglione Fiorentino si era subito adoperato per la ripulitura che è stata portata a termine da parte di una ditta specializzata. Nel contempo era stata avviata l'indagine da parte del comando di polizia municipale che sta andando avanti per risalire ai responsabili. Il sindaco coglie l'occasione ancora una volta per invitare il premio Oscar a Castiglione Fiorentino. Motivo in più forse no. Se viene garantisco che la statua sarà ripulita e al suo posto, per cui porte aperte senza problemi, come è stato già in altre occasioni e anche di fronte a inviti ufficiali, che tra l'altro ho personalmente inviato sia per la riapertura del Teatro Mario Spina, ma anche più recentemente attraverso un suo legale di fiducia avevo posto proprio l'invito a tornare a Castiglione Fiorentino.